Graffiti in città è l'azione del progetto Family realizzata a Sondrio e di prossima inaugurazione. Io e mio padre ci siamo occupati della realizzazione di tre murales orizzontali. Si trovano nelle tre zone Garberia, Viale Trieste e Piazzale Bertacchi perché sono appunto dei disegni sulla pavimentazione della città sulla quale i bambini possono interagire trovando il loro modo di giocare. In Garberia per esempio c'è una pista ciclabile dove in Piazzale Bertacchi ci sono delle forme che possono saltare da una forma all'altra, mentre in Viale Trieste ci sono dei percorsi da seguire a piedi. Come amministrazione comunale abbiamo accolto con favore questa iniziativa che abbiamo subito deciso appunto di sostenere in quanto sicuramente c'è una valenza, come posso dire, ricreativa e sociale importante che è la finalità principale. Abbiamo anche comunque apprezzato che questa iniziativa si inserisce bene dal punto di vista dell'arredo urbano, nel senso che il risultato è molto bello è gradevole alla vista, quindi è un lavoro sicuramente che ha un impatto positivo. In generale noi come amministrazione da quando ci siamo insediati stiamo cercando di curare in maniera particolare l'arredo urbano anche con iniziative mirate di restyling e quindi questi ambiti cittadini importanti quindi la Garberia, Via Trieste, Piazzale Bertacchi con questo inserimento di graffiti urbani lo riteniamo un'iniziativa molto centrata anche da questo punto di vista quindi mi sembra proprio un'iniziativa bella che è stato giusto sostenere. Ampio il ventaglio di interventi in cui è inserita l'iniziativa. Il progetto Family comprende i punti Family Friendly, ovvero degli espositori che nei negozi di Sondrio hanno fatto sì che i bambini che entrassero nei negozi potessero intrattenersi mentre i genitori insomma compievano le loro commissioni e spese. Il progetto poi prevede una piattaforma per le famiglie. Su questa piattaforma sono reperibili una serie di profili di ragazze e signore disponibili per essere assunte come babysitter da parte delle famiglie. In questa azione abbiamo avuto una forte collaborazione da parte di ACLI. La terza e ultima azione del progetto prevede un Family Hub ovvero uno spazio proprio qui presso la nostra cooperativa Forma dove le famiglie potranno incontrarsi, progettare, organizzare delle attività.